Direi che disastrosa è il termine più corretto per definire la live di BlasterSea che poi non è neanche stata una vera live Cioè voglio dire, qualche giorno prima di fare la live io ho fatto tutte quante le prove, i test necessari per evitare drop sulla live Evitare appunto che si scollegasse i test sulla velocità della connessione Se la live effettivamente potesse partire e fin qui andava tutto bene Oggi, ho appena chiuso tutto quanto perché non poteva essere, proprio dopo un'ora e mezza non poteva davvero più essere a stare in quella maniera in live E niente, praticamente oggi che era il giorno della live, la live non partiva Ho provato a cambiare il codificatore, ho provato a dare diverse impostazioni su OBS Che le live con OBS le ho già fatte in passato, ne ho fatte quattro E mi è sempre andata bene, invece stavolta non lo so che cosa è successo YouTube non mi faceva partire la live Le ho contattati e mi hanno detto che è colpa mia Certo, perché YouTube non ha mai fatto nulla di sbagliato Non ha mai dato strike sul copyright a nessuno per qualche ragione sbagliata Non è che mi ha fatto partire qualche live sbagliata quando in realtà non c'era E mi è successo una volta e mi hanno fatto partire una live senza niente, schermo nero Fortuna che era privata Ma me ne sono accorto dopo dieci ore tipo che era partita Quindi quella era colpa mia secondo loro Dico, loro non hanno mai colpa Se ieri mi partiva vuol dire che c'è qualcosa che non va con voi oggi O no? No, colpa mia Vabbè, sarà colpa mia, sarà colpa mia Che ci posso fare Ogni modo, alla fine con qualcuno sono riuscito a giocare Però ragazzi, prima di fare un'altra live sicuramente vedrò comunque sia di stare più attento Cercherò di farlo Addirittura io l'ho voluta fare partire prima Mezz'ora prima volevo farla partire E mettere appunto il pre-live con un po' di musica Ma niente, è stata un'ora e mezza Ho provato un'ora e mezza Io addirittura ho iniziato un'ora e mezza prima del pre-live, il pre-show Per provare appunto se tutto quanto andava bene E da lì questo è il problema Alla fine mi sono messo in chat con voi Ho spiegato appunto questo problema Alcuni hanno capito, altri no perché non leggono E niente, è andata così Disastrosa a dir poco La prossima sicuramente ne farò un'altra Ma cercherò appunto di Di mettere tutto quanto preciso Perché sinceramente così non può essere Ieri appunto partiva, oggi non parte Non so che dire E praticamente quelli che hanno giocato con me sanno Abbiamo fatto Reggio e Emma Comunque sia l'ho registrata Dopo quando ho visto che la live non partiva Ho registrato il video di Reggio e Emma E c'erò tutto quanto lì pronto Quindi caricherò appunto le lotte contro i boss e va bene Perché in teoria la Reggio e Emma Dopo aver battuto contro l'ultimo boss A livello 95 È come se fosse finita Poi vabbè Se completi il labirinto da 45 piani Puoi andare ad affrontare gli Emma Vedrò cosa fare perché sinceramente Mi ci stavo a sentire male davvero Non so cosa cavolo è successo Ho provato a far partire una vecchia live Mettendo la chiave appunto su OBS Così ho provato a far partire l'altra Ma non andava neanche l'altra Quindi forse il problema non è mio Ho provato a far partire una live Che era di Wibble Wobble Fatta un anno fa E quella è andata bene L'ho programmata L'ho fatta È partita ok Questa qui invece l'ho programmata L'ho fatta partire Non è partita OBS mi diceva in diretta Ma YouTube non mi prendeva Mi diceva stato della live buono Però non andava Non partiva il filmato Come ho detto appunto Ho provato a far partire la vecchia live E la vecchia live neanche partiva Quindi Non è che la colpa sia proprio tutta quanta mia All'ogni modo Cercherò un attimo di vedere le impostazioni Non lo so In qualche modo farò Farò qualche prova privata Poi se riesco Facciamo un'altra live Perché così non può essere assolutamente così Boh Vabbè comunque sia Faccio le mie scuse a tutti quanti Quelli che Che speravano In una live E invece Si sono ritrovati con nulla Perché alla fine Era solo Solo la miniatura E la chat Non c'era altro Quindi niente Per forza Così è dovuto andare Però insomma Abbiamo giocato Vedrete un pochino I boss In un video a parte Su Reggiamma Poi Non lo so In qualche modo farò Comunque sia Sicuramente Come ti ripeto ancora una volta Le live Le faccio Qualcosa faccio In futuro Perché Mi dispiace molto Mi è dispiaciuto molto Il fatto che Non sia partita Ho provato decine E decine di volte Ho provato a fare Un'altra live E l'altra live Neanche partiva Tre live diverse Ho provato E nessuna partiva Ci sarà Un problema A monte E non Da me E il monte A youtube Io sono Il ruscello Diciamo Youtube è la fonte Se la fonte Non va Non va neanche il ruscello No Boh Staremo a vedere In futuro Intanto io Niente Chiedo ancora Scusa Però Andata così